Il curatore fallimentare della progetto sport gestione impianti, società che aveva gestito fino a due giorni fa le piscine Elenaia di Claudia Mariani, si è recata questa mattina presso l'impianto di Viale Rivera Nord per incontrare i lavoratori della struttura e poi visitare lo stesso impianto per avviare l'inventario e ricostruire lo stato patrimoniale. Intanto in merito al fallimento della progetto sport il commercialista pescarese Vincenzo Serraiocco attraverso una nota stampa ha ribadito di essere fuori dalla società dallo scorso gennaio e di non ricoprire più alcun incarico da mesi. Si è preso questa mattina intanto che lo stesso Serraiocco al contrario di quanto annunciato nelle scorse settimane non sarà nelle liste dell'Udc in vista delle amministrative di Pescara del prossimo 26 maggio. Queste intanto le prime parole in esclusiva rilasciate alla nostra rete dal curatore fallimentare delle Naidi. In concreto adesso si dovrà procedere alla posizione dei sigilli e quindi all'immediato inventario di tutte le attrezzature e dei beni che sono all'interno della struttura. Quindi questo è il primo passaggio fondamentale, un passaggio obbligato che è stabilito dalla legge. Dopo si attiveranno tutte le procedure per cercare di velocizzare sia l'inventario e sia per cercare di chiarire per quanto possibile le relazioni tra la progetto sport e la regione che comunque è la proprietaria dell'impianto e quindi la restituzione dell'impianto alla regione stessa, al proprietario. Per quanto riguarda l'apertura delle buste e quali potrebbero essere i tempi? Per quanto riguarda l'apertura delle buste è una procedura che è gestita direttamente dalla regione per cui non attiene la procedura fallimentare, quindi non sono io a poter rispondere in questo senso. immagino che la regione abbia già provveduto a stabilire un calendario però è qualcosa che dipenderà direttamente dalla regione e sarà con la regione che dovrà essere approfondita la questione. Il futuro dei lavoratori? Il futuro dei lavoratori? Anche qui non posso al momento fare previsioni né escludere qualcosa perché... Dobbbero avere una corsia privilegiata per una eventuale riassunzione con una nuova proprietà? Allora anche qui il fallimento non è al momento in possibilità di decidere questa cosa né è un compito della curatela. Sicuramente attraverso appunto colloqui con la regione e eventualmente con le altre associazioni potranno essere valutate delle possibilità però al momento siccome non sembra ipotizzabile un esercizio provvisorio da parte della Progetto Sport la situazione mi sembra di non facile definizione però ecco sono questioni che dovranno essere valutate attentamente.